Il Kata Fugli Katani è un Kata che si presta bene, specialmente nella prima parte, a una tattica di combattimento molto pratica, molto intuitiva e semplice. Il pezzo in questione, la parte in questione del Kata, è questa qui. La vado ad eseguire lentamente, è leggermente diversa dalla versione Bojuryu, perché la versione Fugli Katani nasce per essere insegnata in tutte le scuole, in tutti gli stili, di conseguenza poi viene leggermente adattata allo stile stesso. Molto importante, ad esempio, è questo primo passo per togliersi dalla linea di attacco. Adesso andiamo a vedere tre applicazioni, le vediamo prima lentamente e poi le vediamo in maniera un pochettino più dinamica e realistica. Prima applicazione, molto semplice, il Kata mi insegna a fare questo passo, ok? E' chiaro che le prime volte io posso, per imparare questo gesto, partire da questa posizione, guardo il compagno, lui attacca, mi tolgo dalla linea di attacco, ok? Una volta prometabolizzato questo, non è il caso di rimanere legati al Kioca, alla base del Kata, ma bisogna vedere una cosa un po' più realistica, noi siamo già uno davanti all'altro, ok? Io devo andare a fare, di conseguenza, questo gesto, lui arriva dritto qui, ben a misura, ok? E io vado a togliermi dalla linea di attacco. Ora, primo gesto, comune a tutte e tre le applicazioni, uscita, uso meotodè, mani, mani più molle per portare difesa con due attacco al senso, questo, ok? Non vado a prendere il pugno al volo, vieni leggermente più piano, quello che vado io a fare è questo, difesa, e alla fine non cibi, mani appiccicose, non cibi di, vado ad agganciare, ok? Un po' più vicino, prendiamo l'istanza più, ok? Vai! Questo, dove vado a colpire? Vado a colpire chiaramente punti sensibili, come la tempia e lo zigomo, o se vado ad utilizzare il pomcam, posso andare a colpire dietro l'orecchio, anche, ok? Adesso utilizzerò il palmo della mano, non cambia niente, è solo perché non voglio fare male, non voglio fare male al compagno d'allenamento, ok? Di qui, tre possibilità, analizziamo la prima, rottura, la vediamo dall'altro lato, colpisco, prima cosa, colpire, seconda cosa, entro sotto e vado ad utilizzare la spalla per rompere, ok? In questa maniera, nessuno mi toglie la possibilità e andrà a spazzare, ancora, grazie. Seconda tecnica, proiezione, principio uguale, ok? Quindi dove arriva? Su un pigiolo, ok? Vai via, in alto, ok? Uno, due, forbice, sopra e sotto, terza tecnica, forse la mia preferita, andiamo a colpire i punti di pressione della poscia, di quella gamba lì, prima cosa, sempre togliersi dalla linea a capo, vieni, colpisco, sto usando la mano aperta, ricordate, di qua, vado a colpire qui, attenzione, non voglio fare male al mio compagno d'allenamento, quindi adesso mi vedrete colpire dietro la gamba, ovvero sul bicipite femorale, rivediamo tutta l'azione da capo così la faccio in tempo unico, vai, faccio, uno, due, immaginate questo corpo portato, tirati per favore un attimo, portato qui, a questo punto qua, grazie, è chiaro che succede questo, adesso vi vediamo in maniera dinamica. Ok, adesso le vediamo tutte e tre in maniera più dinamica, abbiamo messo un caschetto non per colpire forte, ricordate che un caschetto limita solo i danni superficiali, ma il cervello subisce comunque un danno, ok, perché va a sbattere all'interno delle pareti del cranio, il trauma cranico, ok, quindi non affidatevi esclusivamente al caschetto per menare il vostro colpire, però evitiamo di graffiarlo in faccia, di lasciargli dei segni, ok? Ok, prima tecnica, ricordo, vado a effettuare un colpo all'arteria femorale e con la spalla vado a danneggiare o anche a portare una rottura del braccio, ok? Molto importante l'uscita laterale. Ok, seconda tecnica, la proiezione a forbice, ok? Ok, riuscire a fare. Terza tecnica, colpo col ginocchio sul lato della coscia, colpo di pressione della gamba. Attenzione, ripeto, andiamo a colpire dietro per non fare male al compagno all'allenamento. Fate molta attenzione, il ginocchio non è la tibia, è molto più devastante, ok? Se vi è piaciuto il video e vi piace il lavoro che facciamo con il karate, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e veniteci a trovare per uno dei nostri corsi su Torino o Settimo Torinese. Ciao, alla prossima!